ciao a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi voglio far vedere questa bellissima golf gt 230 cavalli performance cambio manuale dell'anno 2016 con solo 48 mila chilometri vettura che si è arrivata ieri fresca fresca nero metallizzato fare allo xenon sensori parcheggio anteriori e posteriori fan di nebbia ruote da 18 con gli pneumatici nuovi vetri posteriori oscurati fari posteriori full led come vedete la vettura è perfetta in tutte le sue parti non ha un graffio non ha una riga è pari al nuovo come noi scriviamo nei nostri annunci vedete guardate che macchina è fantastica adesso andiamo a vedere gli interni vedete che all'interno la vettura è come nuova vedete che anche le pedaliere sono perfetti i pannelli andiamo a vedere i sedili posteriori sembra non si sia anche né mai e neanche mai seduto nessuno guardate guardate qua sotto perfetta la macchina i pannelli anche sono perfetti andiamo a vedere la parte posteriore nel baule dispositivo carico passante andiamo a vedere la parte anteriore destra sedile perfetto tappetini perfetti e quella andiamo a vedere la parte posteriore destra vedete che non ha difetti la vettura adesso andiamo sopra e veniamo a vedere gli accessori che ha ecco qua allora 48 mila chilometri il suo libretto service timbrato ovviamente volante multifunzione col cruise control fendinebbia fare automatici radio navigatore sensori parcheggio avanti e dietro telefono bluetooth e app connet presa usb per ascoltare la musica della chiavetta e lì abbiamo uno slot per la scheda sd che si può caricare di musica o il cd libretto service regolarmente timbrato con tutti gli italiani che ha fatto specchietto antianabagliante clima automatico sedili riscaldati è veramente una vettura che ha di tutto di più la vettura come vi ho detto è un 2016 con 46.780 chilometri questa vettura la importiamo noi direttamente dalla germania è una vettura ex dipendenti volkswagen che poi penseremo noi a rimatricolare in italia quindi voi verrete a ritirare la vostra vettura con le targhe nuove la vettura prima di essere consegnata verrà fatto un tagliando olio e tutti i filtri doppie chiavi libretto di soluzione italiano libretto service timbrato col tagliando che noi effettueremo tappetini in gomma sanificazione degli interni e lucidatura degli esterni quindi verrete a ritirare la vostra auto che è come nuova con le targhe nuove noi è 30 anni che importiamo vettura dalla germania quindi è il nostro mestiere da sempre la garanzia di questa vettura ha una durata di 36 mesi è una garanzia assicurativa che vale in tutta italia in tutta europa quindi non preoccupatevi se venite da lontano la garanzia se sarà necessario potrà essere usata in tutta italia in tutta europa compreso di carro attrezzi questa vettura se volete venire a vedere e provare la trovate a motta di costiglione d'asti presso bianco auto il numero sempre il solito 0141 969214 o potete scrivere una mail a info chiocciolabiancoauto.it guardate sta cuffia della leva delle marce è nuova come i sedili la macchina è perfetta vi aspetto a vedere e provare questa vettura ciao a tutti amici alla prossima